A San Giorgio la Molara iniziative per valorizzare un'eccellenza della realtà agropastorale campana, la razza marchigiana del fortore, allevata nell'alto sannio al pascolo libero. Bovini le cui carni hanno un basso contenuto di grassi e un alto tasso di proteine. Gli allevatori di San Giorgio la Molara sono gli unici nel territorio sannita ad aver ottenuto dopo anni di miglioramenti della qualità il riconoscimento IGP per le loro produzioni. Seguono un rigido disciplinare dettato dal Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. E' proprio a San Giorgio che conta 113 allevamenti, il Comune ha organizzato la 14esima edizione della mostra bovina interregionale di razza marchigiana per mettere a confronto i capi dei migliori allevamenti un'occasione di crescita produttiva e commerciale. L'iniziativa è stata seguita da un convegno sulla zootecnia e da una kermesse enogastronomica con degustazioni di carni bovine IGP.